buongiorno a tutti e bentrovati a questo sabato della quinta settimana di cuoresima oggi la chiesa ci ricorda che il sabato in tradizio simboli ma anche un giorno speciale ma questa specialità ve la ricorderò alla fine ora ci mettiamo in ascolto dell'evangelista giovanni quest'oggi siamo al capitolo 11 versetti da 45 a 56 molti dei giudei che erano venuti da maria alla vista di quel che egli aveva compiuto credettero in lui ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che gesù aveva fatto allora i sommi sacerdoti e farisei riunirono il sinedrio e dicevano che facciamo quest'uomo compie molti segni se lo lasciamo fare così tutti crederanno in lui e verranno in romagna e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione ma uno di loro di nome caifa che era sommo sacerdote in quell'anno disse loro voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera questo però non lo disse da se stesso ma essendo sommo sacerdote profetizzò che gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto ma anche per riunire insieme i figli di dio che erano dispersi da quel giorno dunque decisero di ucciderlo gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei e gli si ritirò di là nella regione vicina al deserto in una città chiamata efraim dove si trattenne con i suoi discepoli era vicina la pasqua dei giudei e molti dalla regione andarono a gerusalemme prima della pasqua per purificarsi essi cercavano gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro che ve ne pare non verrà egli alla festa i primi 44 versetti di questo capitolo undicesimo li abbiamo ascoltati domenica scorsa raccontano l'episodio della risurrezione di lazaro e ancora una volta seguito di un segno eclatante e potente come quello di ridare la vita ad un morto l'evangelista ci dice nuovamente che molti credettero in lui e questi molti che di volta in volta si aggiungono diventano veramente una moltitudine che fa paura ai capi dei giudei i quali decidono di uccidere gesù come ci dice il versetto 53 ed ecco allora che dopo infiniti interrogatori domande accusatorie provocazioni dopo aver sentito la bestemmia finalmente i capi dei giudei prendono la decisione da quel giorno dunque decisero di ucciderlo gesù deve morire ed è interessante secondo me a questo riguardo notare come nei versetti 51 e 52 l'evangelista giovanni faccia profetizzare a caifa una verità gesù doveva morire non per la nazione soltanto ma anche per riunire insieme i figli di dio che erano dispersi ed è proprio una profezia perché nel segno della croce si riuniscono veramente i figli di dio che si riconoscono popolo che si riconoscono chiesa noi ci ritroviamo ci riuniamo nel segno della croce ma per gesù non è ancora giunta la sua ora anche se manca poco e pertanto si ritira nella regione vicina nel deserto dove oltre a trattenersi con i suoi discepoli comincia a pensare i preparativi per la festa di pasqua per la sua pasqua e proprio dal verbo preparare prendo spunto per l'esercizio di oggi con domani inizia la settimana santa la settimana autentica dove la nostra fede è chiamata a riconfermarsi e a rilanciarsi e allora proviamo oggi a riunirci come famiglie come coppie come singoli cominciamo a preparare la pasqua 2020 anziché fare l'elenco della spesa facciamo l'elenco di quegli appuntamenti a cui non possiamo mancare la prossima settimana per sentirci figli di dio riuniti nel suo nome primo appuntamento ve lo ricordo io la messa di domani domenica delle palme alle 10 30 con la benedizione di tutte le persone della nostra comunità a me non resta altro ora che ringraziarvi dell'ascolto della pazienza soprattutto per avermi dato la possibilità di entrare nelle vostre case è stato un modo alternativo per condividere un tempo di preghiera come avviene di solito nelle tradizionali visite alle famiglie ma prima degli auguri finali devo dirvi perché oggi è una giornata speciale oggi è compleanno dal nostro parroco don giuseppe e quale regalo più bello se non quello di non darlo di chiamate di messaggi di mail per fargli gli auguri per farci sentire vicini a lui ma soprattutto ricordiamolo nelle nostre preghiere e affidiamolo a maria buon compleanno don giuseppe buona settimana santa e buona pasqua a tutti